...e che mostrano l'interno del compound dove si trovava il numero uno di Al-Qaeda. Le vediamo insieme con Giovanna Antonelli. Sì Elena, grazie a te. Allora, mandiamo subito queste immagini che sono un'anteprima esclusiva per l'emittente statunitense ABC. Ha trasmesso le immagini girate all'interno del compound di Abbottabad in Pakistan dove è stato ucciso Osama Bin Laden. Ovviamente sono immagini di qualità scadente, non poteva essere diversamente, probabilmente girate con mezzi amatoriali. Si tratta di un'esclusiva dell'emittente. Vedete qui quest'ampia macchia di sangue accanto al letto. Si vede una stanza messa a soccuadro. Osama, ricordiamo, non si nascondeva in una grotta, bensì in una casa, in una città pakistana che si trova a circa 90 km a nord della capitale pakistana. L'operazione dei Navy Seals americani è durata 40 minuti, ma la maggior parte del tempo poi è stata spesa nel perquisire l'interno del compound. Ci sono segni di colluttazione perché sembra che ci sia stata resistenza da parte di Osama Bin Laden durante questo blitz. Nella stanza si intravedono anche dei pc rotti, ovviamente privati dell'hard disk. Nella stanza si intravedono anche dei pc rotti, ovviamente non si intravedono anche dei pc rotti, ovviamente non si intravedono anche dei pc rotti. Nella stanza si intravedono anche dei pc rotti, ovviamente non si intravedono anche dei pc rotti.